Estate, voglia di vacanza! Ma come faccio a partire se prima non prendo tutto quello che mi serve? E allora, shopping d'acqua e sapone! Coccola la tua famiglia con Johnson's Baby. La gamma Johnson's Baby è prodotta in Italia ed è ideale per adulti e bambini. Trovi tutta la linea scontata del 30% e solo d'acqua e sapone, con ogni prodotto della linea Johnson's Baby in omaggio alla confezione di cotton fiocche da 100 pezzi. Ti ho detto come ho risolto il fastidio delle zanzare nelle calde serate in casa? Con vape diffusore liquido! E come fai a saperlo? Perché lo uso anch'io, dura 60 notti e ha anche la chiusura salvabimbo, mentre all'aperto con i bambini uso i repellenti della linea Vape d'Ermerval. Brava! Proteggono anche dalla zanzara tigre! Fammi controllare? Sì, ho preso davvero tutto e ora sono pronta a partire! Anche se fare shopping d'acqua e sapone è già una vacanza! Acqua e sapone, oltre la convenienza! Grazie a tutti!